Terremoto in Sicilia, all'alba paura tra la popolazione, una scossa di 2.9, si è verificata domenica oggi, all'alba alle ore 5.27 con epicentro a 2 km da Randasso, ci troviamo in provincia di Catania a 28 km di profondità. Per fortuna non si segnalano danni a entità umane oppure a cose, il terremoto a 28 km di profondità è stato localizzato opportunamente dalla sala operativa di Catania, città più vicina con più di 50.000 abitanti, il terremoto localizzato a 36 km di ANW di Acireale. Paura in Sicilia dunque, dopo l'esplosione verificatasi qualche giorno fa del vulcano Stromboli delle isole Eole, l'erulsione del vulcano ha provocato un uomo di Milazzo in provincia di Messina. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, fatemi sapere se avete percepito o no questo terremoto in caso vivete in Sicilia. Al prossimo video da Leandro, narratore italiano.